Partire La salita è bella, la riprendi tutto quanto E la si doveva spiegare E l'ho pensato anch'io Non so se è problema di carico Le batterie, le batterie Lo vediamo Ah, non come memoria Memoria Ah, quindi c'è un problema di batteria Un problema di batteria Un problema di batteria Il prossimo anno al massimo No, secondo me se la spezzi così Da uno a otaggio Alla fine a me mancava il video Pure accendere Per completezza Quindi alla fine Al massimo il prossimo anno Oppure quella del pomeriggio Se tu già vedi che Tu vedi che non c'è la base Quella parte perché succede a poco Sì, non c'è niente E' solo per completare Almeno quest'anno E' come la gente Ma è da riprendere Wow Ah Ma è da riprendere Sì, sì Quella dietro invece Non c'è la dietro E' da riprendere Almeno quest'anno 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 E' da riprendere Grazie. 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 Que bello. Grazie. 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 attenzione che ha la cosa che ripiglia aspetta, aspetta andiamo, andiamo andiamo applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti.